Come con seduti nel Comune di Fisciane è abituato con molta compostezza e guardando anche all'essenzialità delle iniziative di rimarcare, di sottolineare questo evento importante del Natale vissuto dalle famiglie della nostra comunità riempendo di contenuti e con iniziative fatte all'insegna dell'economicità anche, ma nello stesso tempo cercando di dare risposte alle richieste che vengono dal territorio e dalla comunità stessa. Saranno articolate una serie di iniziative e di eventi in questo periodo pre-natalizio e post-natalizio e in particolare si riprende una consuetudine che è già partita alcuni anni fa su iniziativa del prologo locale che è quella di far arrivare una serie di operatori installando dei mercatini natalizi sia nella frazione Lancusi sia a Fisciano Coppoluovo all'interno della villa comunale. Insieme ad altri momenti di festa diventa il fulcro di questi eventi la 34esima edizione mi pare del 28esima edizione del presepe momento d'arte centro del focolare domestico che riesce a coinvolgere l'intera comunità ma le scuole di ragazzi in particolare. Questo è quello su cui noi puntiamo il coinvolgimento delle famiglie, delle persone, dei giovani del nostro territorio perché il Natale venga vissuto con compostezza in un momento di grande difficoltà economica e finanziaria del Paese non tralasciando neanche però un simbolo come possono essere le luci per il territorio comunale che è veramente soltanto come segno di questa ricorrenza che arriva e che deve predisporre tutti quanti gli uomini e le donne che vivono all'interno di questa comunità in senso positivo rispetto ai problemi e alle difficoltà del domani e intendere anche questo momento come un'occasione per purificarsi anche da una serie di eventi poco edificanti se questi si sono intervenuti e produrre una sorta di catarsi anche dello spirito e dell'anima e porsi in termini positivi verso la comunità, verso i più deboli, verso i soggetti più svantaggiati che hanno bisogno di avere una mano da chi sta meglio di loro. Questo è il significato che noi attribuiamo oramai da tanto tempo a questo evento religioso che è anche religioso ma che è anche una serie di sfumature tipo civile e tutti quanti insieme con Compostezza vivremo e ci apprestiamo a vivere questo periodo di feste sperando di dare una risposta utile alla nostra comunità. A pochi giorni inizierà la prima edizione del mercatino delle idee e nuovi stili di vita con la Presidente Rosa Sabato. Questo mercatino è un mercatino che ha un obiettivo sulla questione di dare un messaggio ambientale. All'interno di questo mercatino e delle attività che il Comune di Fisciano con il Sindaco Amabile hanno deciso di organizzare a Fisciano ci sarà una tappa del tour campano rifiuti zero che parte da oggi 10 dicembre fino al 14 dicembre e parteciperà alle ore 16.70 all'interno di questa manifestazione Rossano Ercolini che è il fondatore dell'idea della politica in Italia di rifiuti zero e che ha ottenuto il premio Nobel americano nel 2013 per rifiuti zero per rappresentare l'Europa. Infatti è stato primato nel 2013 alla Casa Bianca con il Presidente Obama. Rossano Ercolini presenterà in questa occasione anche il suo libro Non bruciamo il futuro. Un libro che vuole proprio diffondere la cultura di rifiuti zero la cultura della riduzione, dell'eliminazione dei rifiuti e quindi che va contro ed è l'antitesi dei termovalorizzatori. Anche su questo ci sarà anche il comitato non generitore e tutte le altre associazioni che appoggiano e sostengono questo tipo di battaglia. Io sarò presente, aderisco al mercatino delle idee organizzato da Rosa Sabato come associazione help, tutela e sostegno dei consumatori. Un'associazione che non poteva non essere in questo quadro di volontà di costruire una cultura ambientale anche nella nostra provincia partendo anche dal Comune di Fisciano. Noi quest'anno per la prima volta come associazione mercatino delle idee siamo presenti nel corso delle manifestazioni del Comune di Fisciano e della Proloco. Noi portiamo questo messaggio di nuovi stili di vita e di solidarietà perché la nostra associazione promuove principalmente gli artigiani che sono in principal modo donne e ragazzi giovani che si industriano a inventarsi qualcosa da fare. In effetti il nostro mercatino è all'insegna del riduco, riuso, ricreo, riutilizzo. Le R che ci devono portare a un tipo di vita più sostenibile. Io invito tutti i cittadini di Fisciano a partecipare a questo mercatino perché troveranno delle cose originali prodotte da noi, prodotte a volte con materiale di riciclo ma non meno belle di quelle che troviamo nei negozi ma cose particolari che ogni artigiano che è anche un artista ha creato per loro. Noi vogliamo dare a questo Natale anche a Fisciano un'impronta di un nuovo stile di vita più solidale e che faccia rete e ci sia solidarietà fra tutti quanti espositori, visitatori e tutti quelli che parteciperanno. La Prologo Fiscianese Antonio Sica, questa iniziativa che si svolgerà nella Villa Comunale di Fisciano è un'iniziativa importante dunque sia per l'aspetto della produzione locale che per l'aspetto ambientale, un'iniziativa interessante per questo Natale. Sì, la Prologo Fiscianese quest'anno ha allestito e organizzato questa rassegna, questa edizione dei Merry Christmas che si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 dicembre presso la Villa Comunale di Fisciano e poi a seguire il 19, 20 e 21 presso la piazza Regina Margherite di Lancusi. È un evento che noi riteniamo sia una cosa molto significativa e importante per il Comune di Fisciano e sperando che ci vengano a visitare molte persone perché sarà una manifestazione oltre che ci saranno i mercatini delle idee e altre cose ma ci saranno anche degli intrattenimenti rappresentati da artisti di strada e altre cose per bambini eccetera. Però la Prologo mi corre l'obbligo di dire che accanto a questa manifestazione che questa volta si fa a Fisciano per la prima volta, la prima edizione, però noi facciamo già un concorso di arte presepiale che è un concorso che si chiama Il Presepio, momento d'arte il centro del focolare domestico che quest'anno raggiungerà la sua ventottesima edizione. Il titolo che fu coniato all'epoca non è stato fatto a caso, perché il presepio è un momento d'arte, cioè chi fa il presepio lo fa secondo la propria ottica come vede il Natale eccetera, però nello stesso tempo rimane sempre centro del focolare domestico, cioè come attività della famiglia, di riunione della famiglia per far vivere il Natale secondo quei canoni che ci hanno insegnato i nostri avi. Poi questo concorso è aperto a tutti i cittadini del Comune di Fisciano ed è architettato su quattro sezioni, cioè la sezione famiglia, la sezione scuola dove parteciperanno tutte le scuole del Comune di Fisciano di ogni ordine e grado, poi le chiese, i negozi e le associazioni. Quindi è un concorso vero e proprio a tema libero. Poi accanto a questo quest'anno faremo anche la mostra di arte presepiale, sempre a tema libero ed è la quarta edizione, questa si svolgerà presso la congrega del Santissimo Rosario di Fisciano e già negli anni scorsi abbiamo riscontrato un notevole successo di partecipazione perché poi lo scopo della Prologue è anche quello sociale di cercare di incentivare soprattutto i giovani, soprattutto le famiglie a preparare questo presepe per così vivere il Natale, specialmente in questi momenti è significativo che noi abbiamo questi riscontri. Poi accanto a queste manifestazioni c'è da dire che il 28 dicembre ci sarà presso il centro gomme del Regno un Fisciano in fitness, Christa Mass in fitness e ci sarà anche quest'anno il raduno delle Ferrari e delle macchine d'epoca. Poi il 5 di gennaio ci sarà un concerto presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Penta dove si esibirà un trio per un po' sempre a tema natalizie, canzone eccetera eccetera. E poi un'altra cosa molto importante e poi chiuderemo il 24 gennaio, il 25 gennaio presso il Palazzo di Falco ci sarà una rassegna che avrà carattere regionale ed è per la prima volta che viene a Fisciano di fumettistica e giochi, videogiochi eccetera. Sperando che anche questa manifestazione possa essere accolta da parte dei visitatori di buon grado e invitiamo tutti a farci visita e vi ringraziamo fin da adesso. Grazie. Sì, siamo qui al comune di Fisciano e spiegheremo come consisterà questo mercatino Merry Christmas Fisciano con altri organizzatori. Il 12 dicembre dalle 20 e 30 presso la villa comunale di Fisciano si esibirà la voce del popolo. Invece direttamente da Made in Sud il 13 dicembre sempre alle 20 e 30 c'è Lello Musella. Il 14 dicembre dalle 16 e 30 c'è l'animazione per bambini del villaggio dei Puffi. Invece presso Piazza Regina Margherita c'è l'animazione dell'Ape Maia dalle ore 16 e 30. Poi il 19, 20 e 21 ci sono varie iniziative. Il 19 c'è il Mr Jungle che è un artista di strada. Poi il 19, sempre il 19 dicembre alle ore 20 e 30 c'è Enzo Costanza che direttamente viene da Zelig. Il 20 e 21 c'è Mago Pachito con le sue esibizioni e farà degli spettacoli per bambini. Durante queste manifestazioni ci sarà la casetta di Babbo Natale e i suoi amici che aspetteranno tutti i bambini per scrivere la loro letterina. Vi ringraziamo a nome di tutto l'associazione della Prologo, dei vari organizzatori. Vi aspettiamo qui all'Ancusi a Fisciano. Per contattarci sulla pagina Facebook c'è proprio l'evento Merry Christmas Fisciano dove lì potete mandare un messaggio, potete scrivere un post e sarete disposti immediatamente.